Di nuovo insieme con il TG Territorio e Cultura, le sfide creative di Incastro hanno coinvolto tanti dei bambini presenti in città per il Festival Segni. Un gioco per tutte le età, un gioco che unisce, un gioco con cui scoprire sempre nuove creazioni nascoste nelle infinite combinazioni dei coloratissimi moduli. Incastro ha appassionato e coinvolto tanti dei bambini presenti in città per Segni New Generations Festival. Nello stand allestito in Piazza Mantegna hanno dato sfogo alla loro creatività costruendo robot, ponti, castelli, corone o semplici forme suggerite dalla loro fantasia. Qualcuno ha chiesto suggerimenti a mamma e papà, altri hanno fatto da soli, altri ancora si sono messi assieme perché l'unione fa la forza. Incastro è un gioco particolare, innanzitutto è tutto made in Italy. E' costruito con un unico pezzo, per cui i bambini danno libero sfogo alla loro creatività cercando di unire insieme questi pezzi ad incastro. Ci sono vari livelli di difficoltà per giocare, per cui è un giocattolo che è adatto a tutte le età. Quindi anche i genitori si possono divertire a giocare insieme ai loro figli e creare dei momenti insieme per il gioco in famiglia. Palazzo della Ragione apre le sue...